buonasera a tutti ragazzi del vostro cartel curva nord uè guaglio come stai guaglio 100% Dario Ferrante 100% cartel allora grandissimo momento con guaglione ascolta a me oggi sono 36 anni anche per te io ancora sono a 35 ti pensavi che non ti avrei pensato guaglio guarda qua che cosa non c'ho il regalo ho il video messaggio per te e guarda qua un bel bar oh ti aspetto per la birra è promesso ok amicos spero che il regalo ti sia piaciuto spero io non te l'aspettavi da carta lei invece è arrivato quindi mi raccomando non arrenderti mai e non ti chiudere in cameretta perché ci aspetta il bar vedi ci aspetta il bar ci aspetta il bar quindi muoviti vieni in Italia non me ne frega un cazzo che stai giù a Tenerife vieni te lo ti vengo a prendere io se ne va a fare una bella birra e festeggiamo il tuo 36esimo compleanno eh vamos vamos ok 100% anche qui è 100% cartel quindi tanti auguri di buon compleanno caro fratello caro amico grande amico ti saluto e con questo ti aspetto per la birra mi raccomando 100% eh ciao